Nella giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS, che si tiene il primo dicembre di ogni anno dal 1988, numerose sono le iniziative per sensibilizzare la cittadinanza a non abbassare la guardia, poiché, anche se non se ne parla spesso, il numero delle infezioni non solo non è diminuito, ma negli ultimi anni ha ricominciato ad aumentare costantemente. In Europa la malattia ha toccato numeri sbalorditivi mai visti nemmeno negli anni 80. Sono 142.000 le nuove infezioni nei 53 paesi della regione europea dell'OMS, di cui circa 30.000 nella sola Unione Europea. In Africa l'AIDS è diventata la prima causa di morte tra gli adolescenti. 26 nuovi contagi si verificano ogni ora, mentre in Europa, anche se non è più una malattia per cui si muore sempre, sono in aumento le nuove infezioni dovute a rapporti omosessuali con il 42%, mentre quelle dovute a rapporti eterosessuali sono del 32%. Lieve è l'apporto di nuove infezioni da parte di tossicodipendenti che usano droghe iniettabili con un 4,1%. L'11% delle infezioni avviene nella fascia tra i 15 e i 24 anni. Tra gli uomini il tasso è 3,3 volte quello tra le donne. L'Italia non fa eccezione, sono soprattutto i giovani tra i 25 e i 29 anni i bersagli preferiti dal virus dell'HIV, poiché nonostante anni di campagne informative si continua a prediligere un rapporto sessuale senza preservativo. Così l'84% dei casi contrae la malattia, di cui il 40% sono omosessuali maschi. Il Veneto risulta la regione con più casi di HIV.